Sono Sara Savian e sono una designer di Milano. Dal 2014 mi occupo di moda e fabbricazione digitale e wearable. Lo faccio all'interno di WeMake, un fab lab, un makerspace, uno spazio in Milano dove le persone possono venire, utilizzare i macchinari e condividere le loro competenze e conoscenze. Nel dicembre 2021 ho ricevuto la telefonata di CNA Lombardia che è partner della rete EN. La cosa bellissima è che mi ha messo in contatto con Anastasia Gaglieyeva che è una designer e artigiana di Berlino del marchio Angalet. Insieme abbiamo progettato Match Code che è un wearable che permetterà alle persone di incontrarsi socialmente offline per poter agevolare gli incontri in maniera sicura. Il nostro progetto ha vinto il World Partnership Project, la seconda edizione e in questo momento siamo in fase di incubazione grazie anche al supporto della rete EN.